Orgoglio e credibilità per un progetto nuovo ed autentico dedicato all'Abruzzo. Questo è quanto emerso dalla Segreteria regionale di azione in merito all'imminente scelta di individuare un possibile autonomo candidato presidente per le elezioni regionali o proporre ad una coalizione le idee progettuali di azione chiedendone la condivisione e l'integrazione con ulteriori proposte e il sostegno comune. Noi abbiamo un nostro programma che stiamo elaborando da tanti mesi coinvolgendo anche persone esterne dall'Abruzzo perché l'Abruzzo ha bisogno di un progetto importante di rilancio che torni ad investire sulla sanità, sul personale della sanità, sulle infrastrutture. Purtroppo siamo fuori dalla dorsale adriatica per quanto riguarda l'alta velocità. Si è bloccata e non si capisce come verranno finanziati il miglioramento dell'asse ferroviario con Roma. Quindi ci sono tanti problemi. Un turismo che non è stato valorizzato, che è l'asset più importante, che dà il maggior contributo al PIL abruzzese. C'è tanto da fare. Noi appunto siamo da tempo impegnati a realizzare questo progetto e lo vorremmo condividere con tutte quelle forze che vogliono stare e condividere quindi questo progetto che può essere anche arricchito e nello stesso tempo bisogna trovare insieme un nome che possa garantire l'esecuzione di questo progetto per il rilancio del nostro Abruzzo. Fin dall'inizio azione ha espresso l'urgenza di creare un progetto per l'Abruzzo e su cui ci sia massima sinergia tra tutte le parti chiamate in causa. Vi siete dati un termine ultimo? Il termine ultimo è per fare delle scelte concrete, per fare in modo che tutti possano dare il proprio contributo e prepararci a una buona campagna elettorale entro il mese di agosto bisognerà sciogliere tutti i nodi e poi iniziare a fare la campagna elettorale.